La provincia di Teramo assicura l'anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni ai lavoratori in difficoltà. Questa mattina in Presidenza, infatti, sono state sottoscritte le convenzioni con il Presidente della Banca del Credito Cooperativo di Basciano, Carlo Di Camillo, con quello della BCC Adriatico Teramano di Atri, Antonino Macera. Dal 1 di gennaio, dunque, la provincia si farà carico degli interessi passivi delle anticipazioni con un primo stanziamento di 18.000 euro. Una disponibilità mensile non superare all'80% della retribuzione per sei mesi che sarà concesse in seguito all'apertura di un conto corrente nella banca convenzionata. Per ottenere la copertura, l'azienda deve avere la sede produttiva nell'ambito territoriale dell'istituto di credito. Con questa operazione, continuiamo a coprire l'anticipazione della Cassa Integrazione ai lavoratori in difficoltà. Dopo la rinuncia della Tercas, dice Renzo Di Sabatino, dove stiamo gestendo gli ultimi residui della vecchia convenzione, abbiamo cercato e trovato altri partners finanziari, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata e per il forte segnale sociale che lanciano con questa decisione, che osa ancora il Presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Mi auguro che altri seguino il loro esempio, anche se in questo modo copriamo 32 comuni su 46. Un modo concreto, dice ancora, per stare vicino ai cittadini che a causa di riconversione aziendale, ristrutturazione e censazione di attività, stanno attraversando un momento complicato. Le anticipazioni si sono rivelate uno strumento molto significativo nelle politiche di sostegno al reggio delle famiglie, visto che trascorrono molti mesi dall'autorizzazione agli ammortizzatori sociali alla loro concreta erogazione. In questi anni la provincia di Teramo ha supportato migliaia di lavoratori, che altrimenti avrebbero atteso per mesi senza avere una disponibilità economica mensile o avrebbero dovuto far ricorso a prestiti personali pagando da soli i costi degli interessi passivi.